benvenuto in questa nuova lezione dove andremo a vedere come organizzare ricollegare sostituire le risorse in after effects molto probabilmente quando aprirà i progetti in allegato che scaricherai per seguire le lezioni insieme a me gli elementi di metraggio perderanno il loro collegamento con il file di origine e quindi avrei bisogno di collegarli come vedi nel nostro progetto abbiamo due file due elementi di metraggio nel pannello progetto lago jpeg e tokyo mp4 che hanno perso riferimento con la risorsa originale tra l'altro tokyo mp4 è anche inserito in una composizione per ricollegare l'elemento di metraggio basta cliccarci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionare replace footage file in questo caso seleziona la cartella in questo caso assets che è scaricato cerca il file tokyo e clicca su import vedrai che after effects ha non solo ricollegato tokyo con il suo file di origine ma anche gli altri file contenuti all'interno della cartella quindi in automatico ritroverai tutti i file collegati in alternativa poi anche sostituire un file ad esempio inseriamo lago jpeg nella nostra timeline posizione eccolo qua nel caso in cui volessi sostituire lago jpeg con un altro file ad esempio paper clicchiamo papere importano come vedi il file è cambiato è cambiato anche nella composizione quindi se il file conteneva degli effetti questi verranno applicati alla nuova risorsa collegata con l'elemento di metraggio faccio subito un esempio sempre qui avevamo una scala ecco così semplice andiamo in papere ricolleghiamolo sostituiamolo con di nuovo lago in porta ed ecco che lago come vedi è stato sostituito a papere e conserva le stesse proprietà quindi in ogni momento puoi cliccare su un file e andare su replace footage andare su file e ricollegarlo puoi anche sostituirlo con un solido o un placeholder bene ora che sai come organizzare ricollegare sostituire le risorse puoi seguire le lezioni e scaricare tutti i file in allegato e ricollegarli con i file le risorse originali e iniziare a creare le tue composizioni con adobe after effects